Sopra le ultime ombre e su tutto il viso, prima di iniziare lo schiarimento, passo una velatura con la campitura di base, terra verde e bianco. Grazie. Con bianco e ocra gialla inizio a schiarire il volto. Provo il colore su una zona secondaria, il collo, partendo dai punti più luminosi. Schiarisco le arcate sopracciliari sempre iniziando dai punti più luminosi. Schiarisco il naso seguendo nelle forme. Inizio le luci della fronte partendo dall'alto e sfumando verso le zone meno chiare. Riprendo lo schiarimento del collo, seguendo le differenti forme, sempre iniziando dalle zone più luminose. Inizio lo schiarimento sotto gli occhi. Parto dall'alto, vicino all'angolo tra occhio e naso, e dallo zigomo sfumando sulla guancia. In questa zona del viso le pennellate dello schiarimento non seguono una direzione, ma più direzioni, incrociandosi. Illumino sotto le sopracciglia verso l'esterno della palpebra. Rinforzo i punti più luminosi sotto l'occhio, sempre sfumando. Riprendo la luce delle arcate sopracciliari e della fronte. Ritorno alla luce sotto l'occhio. Passare da una zona all'altra senza insistere troppo su una luce permette al colore di asciugarsi ed essere pronto per un altro passaggio. Sfumo lo schiarimento verso la barba e le zone meno luminose. La sfumatura è data dal colore più diluito o dal pennello più scarico. Nei punti più luminosi si passa più spesso e con il pennello più carico. Schiarisco con bianco, nero e ocra gialla l'interno dell'occhio intorno all'iride. Grazie. 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 Grazie.